La dimensione internazionale, perché spaziamo, la vicenda Maduro rischia di spaccare da un lato di nuovo il governo italiano, ma soprattutto l'Italia in Europa non ha dato un grande segnale ai comportamenti. L'Italia complessivamente in questo momento non è molto presente sugli scenari internazionali, è chiaro che sulla pelle del popolo venezuelano si sta giocando una partita internazionale. Io come sapete ho sempre creduto nella sovranità del popolo e nel fatto che sia il popolo a scegliersi i propri governanti, il proprio destino e la propria storia. Non mi sono mai piaciute ingerenze internazionali, mai, men che mai in una vicenda come quella latinoamericana che è già conosciuto ingerenze di potentati stranieri. La mia solidarietà va al popolo venezuelano che sta soffrendo da tanto tempo, sapete che le analisi e le visioni su queste sofferenze sono diverse, quindi credo che l'Italia debba far sentire il sostegno alla Costituzione e quindi al rispetto delle regole dell'ordinamento venezuelano, ma soprattutto la vicinanza a quel popolo che sta soffrendo e sfilarsi invece dal tentativo di altri, in un modo o nell'altro, di mettere le mani sul Venezuela. Cosa pensa delle posizioni del governo italiano e dell'Europa? Io voglio esprimere la massima solidarietà in questo momento al popolo venezuelano. Cominciare dalla comunità venezuelana della nostra città e del nostro paese, un abbraccio anche alla console del Venezuela con cui abbiamo fatto tante iniziative per la solidarietà nella nostra città e spero che sia il popolo venezuelano e non giochi di potere internazionale a decidere la democrazia del proprio paese. Io credo all'autogoverno, credo alla sovranità dei popoli, non mi piacciono queste invadenze di paesi terzi in un paese del Sud America, sono storie che abbiamo già visto, so che la sofferenza in quel paese è diventata però insopportabile. Da questo punto di vista, siccome non viviamo in Venezuela, c'è chi sostiene come Maduro che questo sia responsabilità di un embargo commerciale durissimo e secondo me c'è molto del vero in questo, c'è però chi anche dice che evidentemente è un governo che si è staccato anche dai bisogni della gente. Io ho incontrato molti venezuelani della nostra città e devo dire esprimono grande insoddisfazione per quello che accade in quel paese. Trovo che sia una sconfitta se il governo del Venezuela o il governo di qualsiasi altro paese debba essere deciso dagli americani o piuttosto da un'altra superpotenza. Io sto vicino in questo momento al popolo venezuelano che credo sia quello che dovrà decidere il proprio destino e non mi piacciono in alcun modo le forzature istituzionali, i colpi striscianti che accadono non raramente in diversi paesi del nostro pianeta.